in 68 secondi e 29 e questo è il decimo miglior risultato e comunque l'undicesimo percorso netto di questa prima manche affrontata da ottava meraviglia di Cassan Giorgio e Paolo Paini hanno la testiera numero 93 non è partito, parla delle verità e un momento è un po' dormito di dieci cose in parte, me ne è riuscita a perdere, dove c'è uno strato, io per ti mando a perdere di dieci cose in parte, me ne è riuscita a perdere, dove c'è uno strato, io per ti mando a perdere sono una grande fornata perché il mando regalato un po' sono pure una torre che non significa di quando viene sera e tornerò da te è andata come è andata la fortuna di tutta a per loro Grazie a tutti. Grazie a tutti.